Siamo con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, a questo grande evento organizzato da studenti RC Expo Consumatori. Un'occasione per mettersi a confronto con le associazioni. Sì, è importante essere a confronto con le associazioni dei consumatori, soprattutto sui temi che ci riguardano più direttamente come proprietà immobiliare, che sono in questo caso quelli della casa, casa dal punto di vista dell'efficienza energetica, del risparmio, della sicurezza da tutti i punti di vista, sismica e nell'acquisto dell'abitazione. È importante analizzare tutti questi aspetti anche con soggetti un po' diversi da quelli con i quali direttamente ci rapportiamo ogni giorno e quindi col mondo dei consumatori, che è il mondo dei cittadini di fatto. È una collaborazione che continuerete a portare avanti? Già avete dei progetti in programma? Noi con Assolutenti in particolare abbiamo un rapporto storico da tanti anni e quindi di collaborazione su tanti fronti, quindi faremo ancora iniziative. Al nostro interno abbiamo anche tante associazioni territoriali, noi siamo sviluppati su base locale, quindi 200 sedi territoriali, anche a livello territoriale continueremo ad agire insieme, a lavorare insieme per obiettivi comuni, che poi sono quelli appunto dei cittadini, cioè avere nel rapporto con la pubblica amministrazione maggiori servizi, in particolare per quanto riguarda il mondo della casa, ma non solo.